Oggi la Anci del Veneto si è incontrata con Anci Lombardia, rappresentata da Tilio Fontana che ne è il Presidente. Le argomentazioni che sono state trattate sono sostanzialmente la tematica fiscale. Oggi con queste condizioni, tanto in area di governo quanto in area comunale, i sindaci non sono in grado di fare i bilanci. L'impegno è con il 5 di luglio in Assemblea di sollevare forte una voce congiunta sulla tematica della fiscalità. Poi ci sono altre tematiche non indifferenti come la provincia, come la questione dei segretari comunali, come la questione delle prefetture. Ma la questione della fiscalità oggi è la grande preoccupazione dei sindaci italiani, Veneti e Lombardi in particolare.